Dagli Alburni si punta tutto sulla stazione di Sicignano e sulla riapertura della Sicignano-Lago Negro fino a Polla, con collegamento con una stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano. Anche il Comune di Ottati si allinea alla prima delibera emanata dall'amministrazione comunale di Sicignano, in cui si sostiene il progetto presentato da RFI per la realizzazione di una tratta ex novo di alta velocità-alta capacità Battipaglia-Praia-Via Vallo di Diano, chiedendo nel contempo il collegamento dello stesso progetto dell'alta velocità ad un'altra opera in cantiere avviata ma non completata, relativa al rifacimento e all'adeguamento della stazione di Sicignano. Martedì scorso la Giunta Comunale si è riunita per approvare la proposta di deliberato per richiedere l'apertura al traffico commerciale per tratte funzionali, ossia all'alta velocità, della linea ferroviaria Sicignano-Lago Negro, partendo dal tratto Sicignano-Polla. Con voti unanimi viene quindi approvata la delibera in cui anche l'amministrazione comunale di Ottati manifesta il suo sostegno al progetto, rimarcando nel contempo l'utilità che la stazione di Sicignano, con adeguati interventi già peraltro previsti, può rinvestire anche in ottica di migliorare e velocizzare i collegamenti ferroviari del mezzogiorno, in modo tale da raggiungere in maniera più ampia l'obiettivo prefissato. Nella proposta, come si legge nella stessa delibera, si chiede espressamente che venga realizzata una stazione dell'alta velocità nel Vallo di Diano e che la stessa possa essere collegata, attraverso una linea interconnessa con la tratta ferroviaria da ripristinare della Sicignano-Polla, in maniera tale da raggiungere la nuova stazione di Sicignano. La proposta va intesa come una politica di contrasto, si legge nella delibera, allo spopolamento e alla desertificazione delle aree interne. Inoltre viene sottolineato che la rivendicazione del Vallo di Diano, del Tanagro e degli Alburni non risulta alternativa allo sviluppo del Cilento e quindi vanno individuate soluzioni di integrazione e non di esclusione. I vari territori che hanno la stessa vocazione devono perseguire gli stessi obiettivi per poter crescere. Il Comune di Ottati si aggiunge quindi agli altri comuni degli Alburni che sostengono il progetto dell'alta velocità nel Vallo di Diano.